Buongiorno signori, eppur si muove, cambio di passo dell'Inps che ha comunicato nuove modalità operative utili a velocizzare le oscene tempistiche di pagamento delle integrazioni salariali. Io sono Mr. Lul e oggi parliamo di bonifici alle poste se IBAN errato 2020. Le integrazioni salariali a pagamento diretto come la Cassa Integrazione Ordinaria, in deroga speciale agricoli e l'assegno ordinario, saranno finalmente pagate automaticamente dall'Istituto con bonifico domiciliato in tutti quei casi in cui l'IBAN del beneficiario inserito nella domanda sia errato o non corrispondente. Questo è quanto deciso dall'Inps per velocizzare i pagamenti ed evitare che molti lavoratori, come infatti purtroppo è successo, rimangano privi del sostegno economico oppure lo ricevano con grave ritardo solo dopo aver provveduto alla correzione. Appena poi l'Inps avrà disposto il bonifico, il lavoratore riceverà un SMS di notifica e la comunicazione di liquidazione, così da potersi recare a riscuotere l'integrazione salariale presso qualsiasi ufficio postale. Un piccolo passo per l'umanità, ma un grande passo per l'Inps. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi nei commenti e io come al solito vi saluto, vi ringrazio e noi ci vediamo in un prossimo video. Un saluto a tutti da Mr. Lul.